Anche per oggi, questo martedì 4 lullo, abbiamo svolto in pieno la giornata di oratorio estivo presso la parrocchia Santo Stefano d'Annicea ad Archi di Reggio Calabria. Intorno alle 8.45 ci siamo riuniti, abbiamo sistemato le sede e abbiamo preparato il programma per la giornata odierna di oratorio. Quindi alle 9 c'è stato il suono della campana per quanto riguarda il gruppo dei gialli e quindi la discesa del crocifisso in mezzo all'assemblea. A questo punto è iniziato il momento di preghiera tutti insieme, curata impeccabilmente dal gruppo dei blu e subito dopo è iniziato il racconto della sesta parte della storia di Marcellino Panevino, curata da tutti i gruppi degli animatori. Quindi, finito il racconto, c'è stato il resoconto del giorno precedente, quindi il diario, curato dal gruppo dei grigi. Fatto ciò, padre Aldo ha spiegato il gioco di Erni che andremo a fare, che abbiamo fatto questa mattina. Quindi c'è stato il gioco a pallacastelli, il gioco col frisbee e quindi c'è stato anche il gioco delle bandiere incrociate. Finito il momento dei giochi, si è passato subito a fare merenda a base di panino con nutella. Fatta merenda, ognuno ha preso posto nei propri laboratori. Noi questa mattina siamo andati a trovare il laboratorio di marionette curato da Mimma e da Maria e il laboratorio di traforo curato da padre Aldo, da Titti e da Daniela. Fatto ciò, intorno alle ore 12, tutti riuniti in un grande cerchio nel campo centrale per la preghiera finale e quindi appuntamento a domani.